ciao a tutti benvenuti anche oggi sul mio canale anche oggi per un video vlog che è dedicato agli artisti dimenticati del cantagiro stiamo facendo sto spin off che va proprio di pari passo con la storia del cantagiro e raccontando proprio gli artisti che col passare del tempo ci siamo dimenticati ma che il cantagiro in realtà l'hanno fatto in alcuni casi anche con un buon successo ma che oggi non ricordiamo più molto bene allora quindi sono qui per ricordarveli ok siamo arrivati con questo che vi presento oggi proprio alla sesto vlog dedicato agli artisti dimenticati del cantagiro e mi concentrerò sul cantagiro che già vi ho raccontato c'è quello del 1970 quello vinto da paolo mengoli ma dove all'interno c'erano anche altri artisti proprio della sua categoria che invece non hanno avuto la stessa fortuna di paolo mengoli oppure hanno fatto altre scelte oggi ve li racconto iscrivetevi al canale attivate la campanella se vi interessa questo argomento vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist che parla della storia del cantagiro con tutti gli spin off si chiama proprio così la storia del cantagiro oggi vi racconto i cantanti dimenticati del cantagiro del 1970 buona visione e benvenuti sul mio canale e tu e tu non hai mai fatto grandi cose il primo sorriso è una lacrima d'amore il primo cantante dimenticato di cui parlo oggi si chiama guido renzi che ha partecipato al cantagiro del 70 nella categoria b la stessa categoria dove ha visto appunto come vincitore paolo mengoli guido renzi invece è un artista che aveva già partecipato proprio come mengoli al cantagiro anche dell'anno precedente comunque nasce ad orvieto questo artista il 13 febbraio del 39 cantante scrittore italiano e dopo aver conseguito il diploma di ragioneria si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia la sapienza di roma il suo esordio nel panorama musicale italiano e nel 67 con un contratto ottenuto alla rt club insieme al gruppo e meno uno incise nel 69 amica mia una canzone che partecipa al cantagiro di quell'anno poi ritorna al cantagiro nel 70 lo fa con tanto cara un disco che riporta fortuna come anche il precedente perché pensate che entrambe le canzoni entreranno in classifica e raggiungeranno almeno per una settimana delle posizioni molto alte ad esempio amica mia la canzone del 69 almeno per una settimana arriva al primo posto e la classifica degli sti più venduti mentre nel 70 raggiunge fino alla seconda posizione con tanto cara va al disco per l'estate nel 72 la canzone è così scritta da robic crispiano l'anno successivo invece va al canta estate con qui nel buio nel 76 è protagonista della commedia per bambini ciao luna recita e canta le canzoni storia del bene e storia del male anche queste pubblicate in 45 giri nel 90 si trasferisce poi in canada dove oltre a continuare poi l'attività di cantante e conduttore di radio inizia anche quella insegnante di lingua e cultura italiana in molti licei del canada nel 2001 è diventato uno dei soci di una delle prime aziende freelance del canada con il figlio danielo renzi che assieme appunto a varie associazioni e di esperti in sessuologia e seduzione hanno iniziato una serie di progetti online su questo argomento pensa un po che cosa stai in argentina lì hanno reso maggio nella quarantunesima consegna dei premi martin fierro e in brasile è considerato uno tra i più grandi artisti di sempre la sua grande passione per la narrativa lo ha portato a scrivere due libri ladri di sogni un giorno dopo l'altro i due libri trattano in parte della sua vita e delle incredibili avventure che ha vissuto ed in parte in argomenti storico sociali di grande interesse e storie passate e anche quelle recenti la direzione orchestrale il maestro roberto negri canta pio un altro artista di cui ci occupiamo oggi si chiama pio pio trebbi allora questo cantante è nato nelle marche poi si trasferisce in romagna si appassiona la musica a 20 anni si trasferisce di nuovo e va a milano e ottiene un contratto con il clan celentano infatti viene prodotto la celentano è partecipa al festival di saremo del 70 la canzone si chiamava nevicava a roma e poi va a saremo di nuovo lo fa nel 71 con occhi bianchi e neri ma nonostante il successo popolare ottenuto in entrambi i casi non viene mai ammessa alla finale è questo pio prende parte al cantagiro nel 70 la canzone grande come il mare e nello stesso anno con il pianista di quella sera partecipa anche a un disco per l'estate passa poi alla fonicetra perciò abbandona il clan celentano e incide per la fonicetra una canzone che si chiama dietro i suoi occhi ma anche un ottimo rock e roll in puro stile celentaniano intitolato you got wise ma anche un pezzo un po tutto rock e roll nell 81 e qui facciamo quindi un salto dopo un periodo di difficoltà e artistiche ritorna con un disco che si chiama due ali blu dove fra l'altro nei credits compaiono i ragazzi del clan è come accompagnamento musicale e addirittura celentano come produttore perciò in realtà diciamo questo legame con celentano non si è mai spezzato è tra gli anni 80 e 90 pubblica altre nuove incisioni fra le quali la terra di romagna l'uomo chimico l'uomo di las vegas entra fa parte dell'orchestra di musica da ballo i principi con la quale per svariate stagioni fa molte tourne in giro per l'italia nella seconda metà degli anni 90 grazie anche all'iniziativa di alcune etichette che iniziano a stampare molti successi di cantanti degli anni 60 e 70 anche più riesce a ridistribuire quasi totalmente il suo repertorio discografico su supporti digitali pubblicando molte raccolte tra le quali più in concerto più canta ai successi del celebre discutendo anche un buon successo e vendendo anche diverse copie nel 99 pubblica un album di successi vecchi e nuovi condiviso con l'amico gino santercole anche lui chiaramente facente parte del clan e si chiama l'ultimo del clan e contiene canzoni che portano il titolo omonimo scritta proprio insieme allo stesso santercole celentano dopo molti anni in cui non ha avuto più rapporti di collaborazione artistica con loro addirittura li ospita in una puntata del suo programma televisivo francamente meno in fischio nello stesso anno pubblica anche il suo primo libro che si chiama perché sono rimasto pio continua l'attività concertistica si esibisce poi con giacomo celentano il figlio di adriano nel 2003 pubblica anche un nuovo album si chiama sogno sant'arcangelo prodotto dalle edizioni casadei sonora e di riccarda casadei e partecipa a questo disco anche il poeta tonino guerra anche questo album è corredato da un fumetto di roberto salvetti su sceneggiatura dello stesso pio nel 2003 il presidente della repubblica italiana carlo azzerio ciampi lo nomina cavaliere della repubblica nel 2006 pubblica un dvd pio in concerto in seguito torna a collaborare con gino santercole col quale incide il brano valentino vai dedicato al campione motociclistico valentino rossi presosi una lunga pausa dall'attività di cantante si dedica alla scrittura di molti libri ha scritto minime massime a tempo di rock è il più recente l'ultimo del clan tutta la verità racconta tutta la verità deve essere interessante questo libro la figlia federica trebbi ha intrapreso anche lei l'attività di cantante se sapessi mio caro ci sono più di mille cento posti musica agip per cambiare la cartuccia già ascoltata grazie aiaiaiai ragazzo se mi fai soffrire mi viene bolla di biancola se superas amore lo che ti ha sperdito si non è stas a chi amore asciuga asciuga che cosa ti importa se sono moderna se non mi piace al cantagiro del 1970 partecipa nella categoria delle nuove proposte anche una certa valeria mongardini in realtà pseudonimo di loredana mongardini nata a roma il 21 maggio del 51 tuttora cantante e anche attrice italiana dopo aver lavorato nel balletto di don lurio di cui è stata capogruppo firma un contratto con la rca talent e debutta come cantante nel 69 partecipa quindi a sanremo lo fa nel 70 con ai ai ragazzo canzone scritta da migliacci umberto napolitano e mario vicari cantata in abbinamento con rita pavone però non riescono e lo ricordiamo è anche nella storia della pavone non riescono andare in finale nello stesso anno partecipa al cantagiro del 70 con addio città vecchia che poi in realtà era una cover di american woman dei guess who con il testo in italiano di claudio baglioni e poi cosa succede succede che lei era sempre stata molto incerta su questo non sa bene se fare la cantante o fare l'attrice e alla fine cosa sceglie di fare l'attrice e quindi si dedica al cinema e usa poi il suo vero nome perciò si chiamerà loredana mongardini al cinema non più valeria mongardini la sua carriera discografica perciò molto corta ha fatto solamente quattro singoli fra il 69 e il 70 di film sono un po di più sono circa 8 e questa era la storia di valeria mongardini loredana mentre muoio guardando il tuo viso è sempre al cantagiro del 1970 e sempre nella stessa categoria di palomengoli partecipa un altro artista lui si chiama sergio menegale nato a milano il 24 giugno del 46 cantante e compositore italiano nel 70 partecipa al festival bar lo fa nel girone b dei giovani e poi fa anche il cantagiro nello stesso anno e appunto è per questo che stava facendo questo spin off la canzone che canta è la stessa odio e amo nel 71 invece fa sanremo il brand si chiama il sorriso il paradiso scritto da gianni del rico che si classifica a 14esimo posto perciò sarebbe l'ultimo fra i finalisti in pratica nell'84 ha collaborato con renato pareti a una colonna sonora che era il futuro è donna questo è il titolo del film diretto da marco ferreri interpretato da ornella muti e la scigulla nel 92 partecipa per la prima volta lo zecchino d'oro chiaramente come autore con la canzone che si chiama la canzone di kian da allora poi scrive compone otto canzoni per lo zecchino d'oro l'ultima in ordine di tempo si chiama di nolin bianchino che ha partecipato alla 48esima edizione dello zecchino quella del 2005 compresa una vincitrice dello zecchino d'argento ed è autore anche del testo italiano del brano giapponese la pioggia sempre per lo zecchino d'oro in questo caso il quarantesimo zecchino d'oro quello del 97 lui la sua carriera diciamo di cantante non è molto lunga ha fatto 4 45 giri fra il 70 e il 76 la sua attività continua come autore di canzoni per altri l'ultimo artista di cui ci occupiamo oggi chiaramente dal cantagiro del 70 nella categoria dimenticati del cantagiro si chiama jordan in realtà il vero nome è franco mammarella un artista cantante italiano nato a chieti il 18 ottobre del 48 allora lui viene scoperto come cantante da vincenzo micocci ottiene nel 69 un contratto con la it sotto questa etichetta pubblica l'anno dopo il suo primo 45 giri che si chiama il colore dell'amore un brano con cui partecipa al cantagiro del 70 poi dopo jordan passa alla seven records l'etichetta del maestro giuliano faccioni e viene distribuito dal rc a italia quindi cosa fa con questa etichetta va a sanremo nel 71 con una canzone che si intitola lo schiaffo in abbinamento con i gents si esibisce accompagnato dai mid of the road però non riesce andare in finale nel 71 torna al cantagiro e qui facciamo un po di spoiler e lo fa con la canzone la farfalla allora vince il girone b nella stessa manifestazione l'anno successivo in cui si presenta con il gruppo fm2 formato da elementi di diversa nazionalità c'era dei sun ad esempio dei primitives l'abbiamo già nominato anche per la storia dei grandi camaleonti e poi ci sono altri artisti che hanno fatto musica in altri gruppi proprio crea un gruppo veramente di grandissimi musicisti e proprio una canzone che si intitola sherry sherry che era scritta da paolo dossè nel lili greco il brano sul retro avrà it's over la canzone scritta da docena con paolo amerigo cassella e da mary coccante dopodiché abbandona le scene e decide di non fare più musica la sua attività quindi si racchiude fra il 69 e il 72 nella sua vita ha fatto come solista quattro singoli fra il 70 e il 71 e un singolo solo con il gruppo degli fm2 e anche oggi ci siamo raccontati cinque artisti dimenticati dal cantagiro in questo caso del 70 ci sarà anche un'altra diciamo parte dedicata agli artisti dimenticati del 70 ne farò un altro spin off un altro blog perché sono molti l'avevo anche già detto e raccontato durante la storia del cantagiro del 70 che quando proprio dicevo non è memorabile come cantagiro per le canzoni cioè non ne rimangono molte poi delle canzoni che partecipano al cantagiro del 70 non è certo come quello del 68 però non solo non rimangono canzoni purtroppo non rimane neanche molto di moltissimi artisti che partecipano appunto lì infatti gran parte di questi artisti che vi ho raccontato oggi in questo blog la maggior parte di loro hanno abbandonato proprio la musica ecco perché non abbiamo più sentiti dire e hanno fatto altro c'è chi si è dedicato ad altre arti o la scrittura o la recitazione e c'è chi ha deciso proprio di farla finita perché succede d'altra parte la vita è lunga si può fare un sacco di cose non è obbligatorio cantare sempre molto bene io vi ringrazio per appunto la visione di questo blog vi invito se vi piace l'argomento a entrare nel mio canale guardare l'intera playlist dedicata alla storia del cantagiro dentro troverete tutte le puntate della storia del cantagiro dal 62 in poi ma troverete anche tutti gli spin off cioè la storia di chi ha vinto il cantagiro ma anche la storia di chi appunto invece il cantagiro l'ha fatto ma l'abbiamo dimenticati perché col passare del tempo hanno perso la loro popolarità voi vi chiederete non l'ho mai detto è ok è vero voi vi chiederete perché quest'anno ti dedichi così ampiamente alla storia del cantagiro e c'è un perché perché il cantagiro quest'anno compie 60 anni ed era giusto dedicare a questa grande manifestazione un anno intero di racconti va bene perfetto io vi ringrazio chiaramente per la visione e vi aspetto alla prossima volta ciao dale